l'ultimo mattino Milan di questa sosta nazionale ce l'abbiamo fatta l'abbiamo messa alle spalle anche quest'ultima sosta del 2023 da adesso in poi quattro mesi di calcio e si inizia domani venti e quarantacinque Milan Fiorentina Enrico Boiani ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti ben ritrovati è ufficialmente il back friday direttore infatti ci siamo vestiti di nero per l'occasione ma non dovete fare sconti di like voi che ci seguite da casa quindi mettete mi piace a questo video iscrivetevi al canale e attivate la campanella per tutte le notifiche ormai me ne invento una più del diavolo oggi ora dico per pietà mettete like per questa vacata che ha detto il black friday te lo giuro a volte ci penso a sto giro mi è venuta mentre la dicevo oggi dico così stamattina mi è venuta mentre la non so perché comunque mettete non mi piace grazie va bene dai partiamo subito l'argomento del giorno o meglio della serata di ieri è che è arrivata la deroga e quindi possiamo convocare il buon francesco camarda che va in panchina domani con i grandi per la prima volta ha convocato poi vedremo se a partita in corso avremo bisogno della sua presenza e il suo ingresso in campo pioli ha deciso c'è il baby bomber con i big del milan camarda all'ora del diavoletto anche perché sono sono finiti non ce n'è più dopo camarda o c'è un altro suo compagno di primavera o dobbiamo andare all'under 17 o under 6 o land all'ander all'ander il centravanti 15 anni sarà convocato domani contro la fiorentina può diventare il più giovane debuttante in serie a e si potrebbe battere qualsiasi tipo di record sia in a che col milan eccetera io comunque due minuti proprio di indulgenza finale se non dovesse servire prima magari poi vedi anche io vedi che non ne imbrocca mezza e decidi di inserirlo è non sto dicendo questo però anche se non dovesse servire cioè diciamo anche se il risultato dovesse essere acquisito e quant'altro da una parte dall'altra ti direi è due o tre minuti giusto per il record faglieli fare cioè dai voglio dire è convocato per neanche per necessità già che ci sei no e ci potrebbe anche stare farglielo fare posto che ripeto non debba entrare per necessità o per scelta tecnica cioè fai 60 minuti 70 mi auguro di no mi auguro di essere in vantaggio al sessantesimo e che se entra entra per l'esordio punto è anche esatto che sei in ampio vantaggio esatto e anche se anche l'ultimo partito in cui eravamo in ampio vantaggio non è che si sono andate benissimo comunque no dicevo magari può succedere anche che sessantesimo settantesimo Jovic non ne imbrocca veramente mezza e non dico che debba entrare ma Pioli decida di rischiare di buttarlo dentro perché Jovic non ne ha beccato a mezzo cioè ci può anche essere questa questa alternativa qua e questa possibilità qua è ovvio che ci auguriamo che non serva a far entrare camarda sabato perché anni 15 qualsiasi persona logica e con logica direbbe che è sbagliato che è un errore che è precoce che è troppo presto la logica è ovvio che ti fa dire questo l'irrazionalità certi segnali la magia del calcio certi corsi ricorsi invece ti fanno ti fanno pensare ti fanno dire che potrebbe essere una pazzia che vale la candela staremo a vedere io sono molto curioso ma guarda io più che la questione di età eccetera che è quella però vabbè più che la questione di età ne faccio una questione di di pesantezza del momento cioè buttarlo dentro magari dopo che si riduce da pareggi e sconfitte da un momento sicuramente non positivo tutt'altro magari in una partita dove se lo devi buttare dentro perché non ti sta andando nemmeno particolarmente bene gli stai dando un po' troppe responsabilità a questo ingresso in campo di un 15enne e quindi ti faccio una domanda ma se poi magari è anche uno che se ne perde cioè mi spiego un esordio in cui va tutto gonfie vele tutto va bene tutto è pulito preciso perfetto e in cui tu aspetti solo e soltanto la sua partita che esordisca che inizi non è forse peggio rispetto a un momento in cui sei contato non sai dove girarti vai un po' così così e voglio dire se va bene benissimo se non va bene anche delle giustificazioni ecco non può essere meglio certo quello quello sì però preferirei essere nella condizione di Alessandro e Pato che fa l'esordio con di fianco Seedorf, Kakà, Ronaldo, Pirlo e compagnia cantante e si ritrova a Luna Park potendo calciare in porta cinque o sei volte sbagliando tra l'altro le prime due due tre tiri in porta mangiandosele pure e poi facendo quello che ha fatto in quella partita gol compreso però sono gusti l'unica cosa che mi viene da pensare che Pioli a un certo punto al sessantesimo si girerà in panchina e i cambi offensivi sono lui Romero Romero stop il terzo che però ti serve basso perché non hai terzi ma non sono cambi offensivi c'è non che aumentano il peso o quantomeno mantengono il peso offensivo della squadra sono questi due ragazzi qui Romero anzi ragazzini quasi venendo dire Romero e Tamarda perché gli altri come scrive Gazzetta sono sono tutti out tant'è che come scrive qua sopra l'infortunio di Ocofor obbliga Pioli e in mezzo all'attacco c'è Jovic che quindi parte titolare per la terza volta dopo Genova contro il Genoa e l'Udinese e vediamo se se questa terza volta sarà la volta buona per far partire la stagione di Jovic che non è particolarmente andato bene anzi tutt'altro è andato decisamente male finora Luca in campionato è già sprecato di opportunità e ci attacchiamo tra regoletta la cabala cioè il gol dell'ex sì il gol dell'ex al fatto che sto ragazzo deve capire che sono le ultime spiagge della sua carriera queste che magari per via di quell'anno all'interact per via di quel trasferimento Real Madrid continuerà continuerà ad avere squadre interessate a lui continuerà ad avere squadre che ci puntano per rilanciarlo la sua carriera andrà avanti il punto è che proprio la sua crescita il suo percorso si è fermato si è fermato a quella presentazione con Florentino Perez cioè da lì non si scappa poteva essere io speravo che il suo approccio a questa avventura fosse decisamente diverso perché arrivi alla Florentina fai benino se non male alla Florentina ti prendi il Milan è vero che non ti prende non ti sceglie come prima scelta però ti prende perché in qualche modo ti prende alla fine del mercato cavoli tu devi avere voglia veramente di spaccare il mondo di rilanciarti di dimostrare che si sono tutti sbagliati di dimostrare che che non sei quello visto a Firenze e invece stiamo vedendo forse una versione ancora peggiore di quella di quella vista a Firenze e quindi deve deve un attimino secondo me capire che se vuole tornare a certi livelli così non va così non va né fisicamente ti direi né di testa perché la tecnica questo ragazzo ce l'ha cioè il talento pure quindi deve ritrovarsi e spero lo faccia perché altrimenti è questo è veramente un buco nell'acqua come acquisto clamoroso anche perché ti serviva l'attaccante più di tanti altri ruoli su cui magari hai anche investito e invece e invece ti sei ritrovato con gli occhi credo che la frase sia sia più corretta possibile cioè ci siamo a un certo punto proprio ritrovati con gli occhi c'è negli ultime ore di mercato stringi stringi salta uno salta due salta tre per vari motivi tra il porto gli agenti chi non aveva il tempo del transfer dall'inghilterra e il seviglia e compagnia stringi stringi ti sei ritrovato con con luca jovic che era praticamente non ti dico fuori rosa ma ai margini della fiorentina che aveva già scelto due punte e quindi lui sarebbe stata la terza scelta di una eventuale attaccante la fiorentina dietro in zola e bel trancia non dietro batistuta e il mondo cioè nei tempi d'oro va bene che dobbiamo dire speriamo dobbiamo incrociare le dite sperare perché lui che va in campo l'attaccante è il milano contro la fiorentina e speriamo che faccia bene ma anche la voglia stessa di dimostrare a chi ti ha scaricato che sei meglio dei due che hanno preso fosse così Henry sarebbe se fosse bastasse così poco sarebbe partito molto meglio quest'anno ma nei partiti ma infatti però dico è l'occasione cioè hai fatto finora malissimo hai di fronte la squadra che ti ha scaricato che farà giocare uno degli attaccanti che ti è stato preferito che è stato comprato dallo spezia tutti gli attaccanti del milano sono fuori ma anche un pochino di di connessione il cervello di attaccare la spine di dire cavoli forse in sta partita qua devo fare il mio almeno in sta partita qua va bene vedremo se Jovic risolverà tutte le nostre questioni domani 20 45 vi ricordo che domani mattina alle 7 c'è il preview quindi l'analisi della partita prima che vadano in campo le squadre ci sono dei colleghi da Firenze ci sono dei nostri clip uscirà oggi un gustoso giochino sui social Henry sì abbiate pazienza uscirà divertitevi e veramente questo fa capire trovate l'errore e vi farà capire quanto siamo alla frutta perché facciamo magari troppa roba e non ci stiamo però è molto carino lo rifaremo con interpreti migliori che capiranno quando hanno vinto esattamente noi siamo arrivati alla fine di questo mattino Milan ci ritroviamo tra poco per chiama Milan delle 11 lancia delle 13 pelle rossa nera delle 16 poi come detto ci troviamo invece domani per tutto il resto degli appuntamenti c'è il preview delle 7 e alle 22 45 torna il post visto che torna il calcio giocato finalmente Henry grazie e ciao 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 a tutti mi raccomando like commento condivisione iscrizione campanella ciao ciao